ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo assaggiamo ebbene sì come avete detto dal titolo non li ho cercati in maniera molto assidua in realtà ho semplicemente aspettato che comparissero magicamente tra gli scaffali del mio supermercato di fiducia ma posso finalmente dire di avere tra le mani i nutella biscuits hanno fatto molto scalpore sono stati pubblicizzati in lungo e largo voglio scoprire se effettivamente sono buoni e meritano appunto la fama che si portano dietro vi faccio vedere molto velocemente quello che è il fronte della confezione anche il retro in particolare gli ingredienti e i valori nutrizionali e dopo di questo direi che siamo pronti per andare ad aprire e ad assaggiare ok già il profumo promette bene ovviamente li avete visti in tutte le salse quindi direi di andare direttamente all'assaggio non c'è che a dire ragazzi sono buoni diciamo che con tutto il caldito che si è creato intorno ai nutella biscuits mi aspettavo una bomba in realtà sono biscotti con la nutella non è niente di diverso dal spalmare la nutella su un normalissimo frullino su un normalissimo biscotto in ogni caso se mai riuscite a trovarli assaggiateli almeno vi togliete la curiosità un po come ho fatto io spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale in modo da poter vedere sia altri assaggiamo che anche i video i miei tra virgolette normali che riguardano i viaggi se li avete trovati e provati e volete lasciarmi la vostra opinione potete farlo in un commento qui sotto sempre qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure in giro noi ci vediamo al prossimo video have a nice life ciao 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 ciao